Donne spesso invisibili, i cui segni però sono ben visibili nella comunità. Silvi, in occasione della giornata dei diritti delle donne, ha istituito un nuovo premio, Le Perle di Silvi, un riconoscimento all'impegno del genere femminile. L'iniziativa è promossa dal Comune e dall'associazione Nova Civitas, un'associazione di volontariato che gestisce lo sportello antiviolenza. Abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni di volontariato, di vicinanza alla collettività, tantissime storie meravigliose di sacrifici, di abnegazione, di rinunce e anche di tanti traguardi raggiunti dalle donne e abbiamo pensato di dare voce, di dare visibilità a queste storie per dire non solo grazie ma anche per dare un segno di riconoscimento nei confronti del loro impegno e anche per il valore del rispetto, per divulgare la cultura del rispetto nei confronti delle donne che affinché sia anche un esempio per le giovani generazioni. I premi saranno tre per tre ambiti in cui le donne hanno contribuito alla società, nel lavoro, nel volontariato e nella cultura. Le concorrenti potranno essere candidate entro il 30 marzo tramite un modulo sul sito del Comune e saranno poi il sindaco, l'assessore alle pari opportunità e la presidente dell'associazione a decretare le vincitrici che saranno premiate, covid permettendo, in un convegno pubblico. Un riconoscimento per coloro il cui impegno spesso non è riconosciuto. Rendere visibile ovviamente chi è che ha contribuito, qual è la storia di questa persona che ha contribuito a lasciare un segno nella sua vita ma anche in quella della comunità. Questo è importante. Capire quindi qual è stato il vissuto, quali sono stati i sacrifici, quanta tenacia, quanta abilità, quanta voglia ha messo per arrivare a un obiettivo e dare un contributo al miglioramento della società. In questo modo i ragazzi hanno un esempio, un testimonial di quello che ha fatto questa persona e poterlo appunto anche metterlo in pratica, dare fiducia perché magari ci sono molti che sono ai margini e non riescono comunque ad emergere, a raggiungere determinati obiettivi, non credono di potercela fare e invece avendo un esempio simile è possibile dare fiducia e dargli la forza di riuscire in quell'obiettivo. La prima edizione di Le Perle di Silvi sarà dedicata, sulla scorta di ciò che sta accadendo nell'est Europa, alle donne ucraine. Grazie.